La U di Sassari introduce un innovativo robot, servizio di Valeria Ganadu. Un'importante innovazione tecnologica arricchisce la dotazione dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Si tratta di un robot per la chirurgia multidisciplinare, il Da Vinci Single Port, avanguardia nella chirurgia mininvasiva. Il macchinario è stato utilizzato per la prima volta a Sassari, con successo nei giorni scorsi, per eseguire tre delicati interventi chirurgici, due prostatectomie radicali e una cistectomia radicale. Attualmente con questo nuovo sistema noi faremo un'unica incisione attraverso la quale, con un solo foro, entreranno tutte le braccia robotiche e potremo eseguire lo stesso intervento con, immaginate, una minore invasività per il paziente, un tempo chirurgico esattamente uguale o addirittura minore e una ripresa da parte del paziente molto più rapida. Si è visto già da studi americani che questo tipo di sistema robotico ci permette anche di fare qualunque altro tipo di intervento chirurgico. Un traguardo importante raggiunto dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Per un'azienda come la nostra, che è un'azienda ospedaliera universitaria, quindi ci permette anche la formazione dei nuovi chirurghi con le nuove realtà e con le nuove tecnologie e quindi di essere esattamente sovrapponibili a quelli degli Stati Uniti. Devo fare un ringraziamento personale al nostro direttore generale, Alberto Spano, e al nostro magnifico rettore, il professor Mariotti, che grazie a loro e alla loro lungimiranza, e alla loro voglia di adeguarsi ai tempi e alla tecnologia esistente oggi in chirurgia, ci permettono appunto di essere al passo con i tempi.